Amici sportivi appassionati di Pallamano ben ritrovati nuovo appuntamento con Handball Mania un saluto a Matteo Aldamonte ciao ciao a tutti ciao Matteo grazie per la tua presenza in studio avremo modo poi di aprire un'ampia parentesi un'ampia finestra sui mondiali di Pallamano che stanno attirando tante attenzioni ma anche tante polemiche ne parleremo nella seconda parte del nostro appuntamento settimanale che apriamo salutando l'ospite di questo pomeriggio che è il presidente della federazione italiana gioco Handball Pasquale Loria grazie presidente per aver raccolto il nostro invito buonasera grazie grazie a tutti buonasera presidente allora partiamo subito Matteo con la notizia delle ultime ore no degli ultimi giorni perché la FGH ha scelto la sede dove disputare una prossima edizione delle finals di Coppa Italia un'edizione particolarmente importante perché giunge praticamente ad un anno quasi esatto dall'ultimo grande evento organizzato dalla FGH prima del lockdown esattamente di fatto è stato anche l'unico l'ultimo titolo assegnato nel cammino della Pallamano italiana 14 squadre quest'anno e si giocherà a Salso Maggiore Terme nella provincia di Parma al Palasporti Salso Maggiore Terme la Pallamano torna in Emilia Romagna con una manifestazione di Coppa Italia dopo 15 anni esatti l'ultima volta a Bologna ecco presidente Loria perché la scelta è ricaduta sull'Emilia Romagna la scelta è ricaduta sull'Emilia Romagna perché abbiamo iniziato un dialogo molto proficuo al momento con la regione Emilia Romagna che sta sviluppando un fitto calendario di eventi sportivi quindi nell'ottica del rilancio turistico sportivo della regione il presidente Bonacini è molto sensibile rispetto a questa materia e abbiamo iniziato a ragionare con loro e abbiamo avuto la possibilità di inserire anche la Pallamano in questa programmazione pluriennale della regione Emilia Romagna che speriamo di poter seguire anche noi e di essere in partnership con loro quest'anno a partire dalla Coppa Italia ma anche nelle prossime stagioni Teatro di Gara sarà il Palasport di Salso Maggiore Terme come sottolineava Matteo Aldamonte già in passato teatro di tante altre manifestazioni sportive ma anche di eventi di carattere mondano perché è stata per anni anche la sede della finale di Miss Italia una struttura molto bella accogliente che purtroppo però sarà chiusa al pubblico insomma accesso limitato solo agli addetti ai lavori purtroppo stiamo facendo i conti con una nuova dimensione organizzativa degli eventi lo stiamo vedendo l'abbiamo già visto in parte con la Supercop con le partite della Nazionale e adesso credo che ci avvicineremo in misura maggiore a quello che stiamo vedendo che abbiamo visto con gli europei o con i mondiali con tante squadre lì perché sono 14 squadre 6 al femminile e 8 al maschile ecco Presidente la nostra Sabrina Alessio un articolo che poi avremo modo di leggere nel prossimo giornale dell'Handball in uscita nel fine settimana sottolineava un dato credo molto importante no perché manco a farlo apposta l'anno passato si giocava a Siena e in quei giorni il covid era insomma un fantasma che alleggiava ma non avevamo ancora contezza e proprio in quei giorni insomma registrammo il paziente zero piuttosto che la prima vittima in Veneto è passato un anno sono cambiate tantissime cose lo stato della palla a mano come ha retto all'urto della pandemia la palla a mano italiana ma io penso che la palla a mano italiana ha retto bene all'urto della pandemia certo non è stato possibile chiudere la scorsa stagione abbiamo dovuto interromperla bruscamente a marzo come un po' tutti abbiamo chiuso i campionati stilando delle classifiche su dei parametri in modo da rendere definitiva la stagione ma non abbiamo potuto assegnare per esempio i titoli i nostri atleti le nostre atlete sono rimasti fermi per un buon periodo di tempo però già in estate nonostante abbiamo dovuto rinunciare ai grandi eventi internazionali e questo è da sottolineare che avevamo in programma nella scorsa estate eh dicevo già in estate abbiamo un po' ripreso l'attività con le squadre nazionali eh abbiamo fatto un eh campus a luglio eh con i nostri under diciotto e under venti e anche con qualche eh atleta senior eh abbiamo contribuito quindi in questo modo anche alla ripresa eh atletico agonistica eh dei nostri migliori giocatori siamo riusciti a ripartire in settembre con i campionati maggiori abbiamo oggi eh una eh programmazione che eh ci auguriamo consenta di chiudere regolarmente questa stagione anche a livello di attività eh regionale di aria eh e giovanile quindi peraltro stanno per partire i campionati di serie B stanno per partire un po' in tutte le aree i campionati di serie B e l'under 19 maschile eh l'under 20 femminile nella formula della Youth League eh ha già eh terminato la prima fase eh nazionale quindi eh poi partiremo eh questo è il nostro auspicio nel mese di marzo anche con le attività che riguardano l'under 17 e speriamo di completare il quadro man mano che si andrà avanti in primavera magari anche per le categorie inferiori approfittando del arrivo della buona stagione e anche della possibilità eh di eh poter giocare all'aperto perché eh diciamo eh anche questa opzione eh secondo me non va eh scartata per i campionati per esempio per 15 e under 13 si potrebbero ipotizzare anche delle eh formule di autorizzazione all'omologazione di campi che mh possono consentire di sviluppare eh i tornei nel periodo primaverile eh tarda primavera inizio estate con eh anche in una modalità eh eh outdoor. Assolutamente sì nella speranza poi di ritornare di nuovo in Emilia Romagna eh nella prossima estate per ripristinare risverniciare il festival della palla a mano che tanto è mancato al movimento nella estate appena trascorsa ma ritorniamo di nuovo alle finals di Coppa Italia perché insomma nuova location ma le novità non si eh non terminano con la scelta di un nuovo impianto dove poter disputare la final eight maschile e la final six femminile. Esattamente perché abbiamo ufficializzato in settimana sul sito web della federazione e sui nostri canali social ovviamente il logo ufficiale della Coppa Italia non solo di questa Coppa Italia ma in generale della manifestazione che è la manifestazione federale per eccellenza. Questi sono i tratti caratteristici. Abbiamo ripreso il pentagono che è un elemento al quale ci stiamo pian piano affezionando. L'abbiamo già svelato con il logo del centro tecnico federale di Chieti e naturalmente poi l'oro perché l'oro è il colore dell'eccellenza e alla final alle final di Coppa Italia vedremo naturalmente l'eccellenza della palla a mano italiana. Tutto partirà nella giornata, nella mattinata di venerdì, tre giorni di grande palla a mano, venerdì, sabato e poi nel pomeriggio di domenica le due attese finali. E speriamo di dare qualche altra novità poi per quanto riguarda domenica, non dico altro. Esatto, hai già bruciato quella che poteva essere la chicca ma la teniamo ben stipata. Io credo che altrettanto voglia fare il presidente Loria da ottimo scalamantico. Abbiamo tutto, quasi, però non abbiamo ancora in qualche modo il lotto delle squadre. Questo perché Matteo? Perché purtroppo il campionato ci tiene ancora un po' appesi con i recuperi, per la verità ne mancano pochi. Fortunatamente questo mese di gennaio è stato davvero decisivo per accelerare in termini di recuperi giocati, però il 3 febbraio di fatto avremo il lotto delle squadre definitivo. Allora Presidente, se rimane ancora in nostra compagnia per qualche minuto perché facciamo ora il punto sulla Serie A, perché poi alla fine le otto squadre che parteciperanno alla final eight di Coppa Italia dovranno essere frutto della classifica maturata al giro in andata. C'è un po' di confusione guardando i calendari, non è ben chiaro il quadro della situazione. Proveremo in qualche modo a chiarirlo. Intanto vediamo il servizio, Matteo. Non si vive di sola Coppa Italia. La qualificazione alla final eight ha catalizzato l'attenzione di tutti, questo è vero, ma la Serie A Beretta da sabato torna a pieno regime e apre. Soprattutto il suo girone di ritorno per una corsa verso lo Scudetto che non ammette passi falsi. Nessuno scontro diretto, anche se i recenti recuperi hanno contribuito ad influire su stati di forma e mentali delle squadre. Ecco perché la sfida cerchiata in rosso non può che essere Egosiera, Acqua e Sapone, Junior Fasano, avversario al Palaestra. Sfida interessantissima perché mette a confronto due dei migliori tiratori del campionato, Jalstam e Nikocevic, ma anche perché i toscani di Dumni ci hanno preso in mano il secondo posto e sono distanti tre lunghezze da Conversano. Mettere pressione ai bianco-verdi di Tarafino è l'imperativo sperando, magari in un rallentamento non previsto dai pronostici dei pugliesi in trasferta a fondi. A qualcuno le lunghe pause di fine 2020 non hanno fatto benissimo. Leggi Raimond Sassari che ha perso il suo ritmo cadendo a Bressanone che guarda non senza apprezzioni alla trasferta sul campo di Trieste. Chiarvola che sempre campo caldo anche senza pubblico. Per la lotta allo Scudetto restano in balo anche Pressano e Bolzano nonostante qualche punto di troppo come ritardo sulle prime posizioni. Gialloneri in trasferta da piano alto a Tesini sul campo della Santa Rally cingoli là dove andranno in scena le altre finali di questa serie a Beretta, quelle per la salvezza. Sette punti per i marchigiani che dovranno difendersi dagli assalti di Team Network Albatro, Fondi e Salumificio Riva Molteno. Presidente, è certo un dato che proprio per l'accesso alla finalette c'è grande lotta. Questo a testimonianza di quanto sia importante per molti club. Forse quest'anno ancora di più l'accesso alle finals di Salso Maggiore Terme. Sì, c'è grande lotta ma anche perché nel campionato maschile ma anche nel campionato femminile c'è molta competizione. Il campionato si è livellato, questo ha migliorato sicuramente il livello di interesse e quindi quando c'è competizione le squadre che partecipano poi non vogliono rimanere indietro e quindi la partecipazione alla Coppa Italia diventa il primo vero traguardo della stagione. Anche perché poi la manifestazione negli anni si è andata bellendo, secondo me questa formula con la partecipazione contemporanea delle squadre maschili e delle squadre femminili così come per il Supercoppa Day ha funzionato. e quindi è il primo momento dell'anno in cui un po' si fanno i conti con i risultati di stagione ma anche ci si mette in mostra, si ha la possibilità di avere evidenza, visibilità e questo è un ottimo obiettivo per tutte le squadre e quindi c'è voglia di partecipare. E poi non dimentichiamo Matteo che avendo quest'anno tra virgolette soppresso i playoff scudetto la Coppa Italia diventa ancora di più importante perché c'è qualche squadra, ora intanto stiamo vedendo la classifica che non è una classifica aggiornatissima ma comunque in qualche modo delinea una situazione e c'è qualche squadra che è già molto attardata e che quindi considera la Coppa Italia come obiettivo principale della stagione. Sì esattamente, si fa l'all in di fatto, già di per sé la Coppa Italia ci aveva abituati magari a vedere squadre che non primeggiavano in campionato arrivare fino in fondo, penso soprattutto al femminile Brescia qualche anno fa arrivò addirittura in finale, però nel contempo sì, a maggior ragione soprattutto nel maschile quest'anno si è creato un distacco tra le prime tre posizioni e chi è rimasto indietro che fa pensare che possa essere difficile vedere una lotta per lo scudetto a molte più squadre e invece in Coppa Italia basta un gol, basta un tiro, pur essendo primo in classifica per andare a casa. Vediamo il quadro della prossima giornata. Esattamente, perché inizia nel campionato della serie a Beretta Maschile il girone di ritorno, dunque questo è il quadro con la sfida del Bolsano in casa della Santarelli Cingoli, Banca Popolare Fondi con Versano, la capolista che fa visita dunque al Fondi, Brestanone salumificio Riva Molteno, occhio a Trieste e Sassari perché Sassari ha perso a Brestanone negli ultimi giorni nei recuperi e dunque adesso affronta una trasferta difficile, a Piano contro Pressano, Ego Siena, Acqua e Sapone, Junior Fasano, altra super partita per lo stato di forma delle due squadre, Timnetto al Calbatro contro Cassano Magnano. Ecco Presidente, si parlava prima della competitività e dell'equilibrio che regna in Serie A Beretta, tanto al maschile quanto al femminile, credi che in qualche modo questo equilibrio abbia anche aiutato in proiezioni azzurra la nazionale, il gruppo guidato da Riccardo Trillini, raduce da due buone prestazioni poi a prescindere dai risultati maturati sul campo contro la Lettonia? Certo, l'equilibrio quando aumenta il livello di competitività del campionato aiuta sempre le nazionali, voi sapete che io sono convinto, anche se non tutti unanimamente sono d'accordo su questa affermazione, che una nazionale può essere competitiva, può essere figlia soltanto di un campionato di vertice competitivo, che a sua volta poi chiaramente è figlio di un movimento competitivo. tutto va di conseguenza. Il livello del campionato italiano attraverso questa formula e questo aumento di competitività si sta progressivamente inalzando. È chiaro che è stato ancora fatto il definitivo salto di qualità tecnico, ma si giocano più partite, sono partite combattute, si vede anche un miglioramento della qualità del gioco e della velocità del gioco. Questo fa sicuramente molto per la nazionale italiana, perché la maggior parte dei giocatori impegnati nelle varie nazionali italiane giocano in campionato italiano, quelli che stanno all'estero chiaramente hanno la possibilità di fare le loro esperienze in campionati anche più competitivi del nostro, a volte, a volte, a volte no, però ecco comunque siamo in una situazione sicura crescita. Equilibrio credo sia la parola giusta anche per fotografare quello che sta avvenendo nella Serie A Beretta Femminile, dove c'è una classifica abbastanza sgranata, ma insomma è talmente ridotta la distanza tra le prime che non possiamo che immaginare un equilibrio fino alla fine del campionato. In vetta può succedere i play-off. Esattamente, ma in vetta può succedere veramente di tutto e probabilmente la cosa più scontata per quanto riguarda la vetta, almeno guardando la classifica, sono le prime tre che combatteranno, ma occhio al quarto posto, perché nel quarto posto potremmo avere qualche sorpresa. In primo luogo una neopromossa, l'Elice, che sta giocando davvero un girone di ritorno notevole. Vediamo il servizio, vediamo quello che ci aspetta, soprattutto sabato. Bisognerà attendere domenica pomeriggio per l'apice del weekend della Serie A Beretta Femminile. Nella programma della diciassettesima giornata c'è Brixen su Tirol, Cassa Rurale Pontinia. L'attitudine alle partite che contano da un lato il brio della neopromossa laziale dall'altro. L'attitudine alle partite che contano da un lato il brio della neopromossa laziale dall'altro. In campo due delle ali più estrose del campionato, Babbo, 95 golle già da tempo stella della Serie A e la giovane Podda sul fronte opposto. Bressanone ambisce ad incrementare la pressing sulla vetta dove nel frattempo la Iomi Salerno appare l'unica inamovibile. Campane, sabato alla Palumbo contro l'Eno e con tutti i pronostici dalla propria. Più delicata la situazione della Mechanic Sistemo Derso, giallonere impegnata nel derby Veneto sul campo delle guerriere malo di Saviz a Mirchichi, 108 reti segnate fin qui in stagione, con l'imperativo di cancellare la concente sconfitta di sabato scorso in casa per ramano della C-Life Style Erice. Le siciliane, complice anche la vittoria di martedì sera a Cassano Magnago, si sono pericolosamente avvicinate alle prime tre posizioni e ora mettono nel mirino Nuoro in un match tutto tra isolane. La prima vittoria di Padova ha scosso la lotta per la permanenza in Serie A Beretta. Le patavine di Sadi fanno visita al Cassano Magnago Lombarde, costrette a sfruttare il turno casalingo a tutti i costi per non scivolare nelle sabbie mobili della bassa classifica. Completa il programma, Alibest Espresso Mestrino e Riosto Ferrara. A centro classifica entrambe sospese, tra una zona calda quella dei play-off e l'altra quella della retrocessione. Allora siamo in chiusura della prima parte dedicata chiaramente al movimento nazionale. C'è ancora da segnalare qualcosa di importante che sta caratterizzando e coinvolgendo il nostro movimento, no, in questi giorni Matteo? Che sono i FIGIAC Awards, i premi che riguardano i giocatori italiani, stranieri, giovani, portieri, le varie categorie. Oggi si vota per la categoria che riguarda i migliori giocatori italiani di Serie A Beretta. Domani si chiudono le votazioni invece con i giocatori italiani assoluti. È possibile votare, lo state vedendo, dal sito federale FIGIACA.it, dalle nostre stories sia su Instagram, che state vedendo in questo caso, e ovviamente anche su Facebook, sulla nostra pagina Facebook. Bene, attendiamoci dunque anche qualche sorpresa, sveleremo i nomi del Vincitore. Tutto a salso maggiore, tutto a salso maggiore, dove ritroveremo gran parte del movimento e questa sarà sicuramente una delle cose, delle notizie più belle di questo 2021. Grazie Presidente Loria, grazie per aver raccolto il nostro invito e per la partecipazione da remoto questa volta. Grazie a voi, alla prossima notte ci vedremo dal vivo, dai. Va bene, grazie, grazie Presidente. Allora Matteo direi di fermarci, no? Gustare insieme i prossimi spot e poi chiudere questo appuntamento settimanale con Handball Mania con una ampia e interessantissima parentesi internazionale. Altra volta. Allora Matteo direi di fermarci, no? 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 Allora, mondiali in Egitto, un corso di svolgimento, non mancano le sorprese, non mancano le partite belle e spettacolari e non mancano le polemiche. No, non manca niente, c'è veramente di tutto in questa edizione dei campionati mondiali. Partiamo dalla parte positiva, dalla parte bella. Domani si giocano le semifinali, noi le seguiamo in diretta su Sky Sport Arena, entrambi 17.30 e 20.30. Presentiamole. L'impossibile, è successo l'impossibile. Tiri dai 7 metri, overtime, cartellini rossi, praticamente qualunque cosa. Ma alla fine Francia, Svezia e Danimarca Spagna sono le semifinali che andranno in scena domani, 29 gennaio, ai campionati mondiali in Egitto. Trasmessa entrambe in diretta alle 17.30 e alle 20.30 su Sky Sport Arena. Qualcuno dice che la giornata dei quarti sia sempre la più emozionante. Forse quel qualcuno ha ragione perché ieri è successo veramente di tutto. Nella terra dei faraoni serve la lotteria dai 7 metri per consegnare la semifinale ai campioni mondiali in carica. Danesi proprio contro l'Egitto, 39-38, su cui c'è scritto sopra il nome del portiere Niklas Landin, eroe dei supplementari. Opaca, invece, la prestazione di Mikkel Hansen. Non tira a tempo scaduto, getta via il pallone sull'ultimo possesso del primo overtime e poi viene anche spulso. Jakobsen trema in panchina, ma alla fine ce la fa. Sullo stesso lato del tabellone, strarripante la Spagna campione d'Europa nel 31-26, fin troppo agevole contro la Norvegia Mondiale da cancellare per gli scandinavi che perdono Sakobsen per infortunio nel primo quarto d'ora e soffrono un corrales straordinario tra i pali, ma in generale pagano la compattezza di una Spagna che, forse contro ciò che si pensava, è ancora una candidata perfetta per la vittoria del titolo. Dall'altra parte la Svezia passeggia nel comodo 35-23 contro il Qatar e affronterà la Francia. L'altro duello tutto tra europee spedisce a casa un'Ungheria coraggiosa, volitiva, organizzata e tornata ai vertici dopo lungo tempo. Anche qui servono i supplementari, dove la Francia di Ghigou, Gerard e Abbalou fa valere esperienza e sangue freddo. Galletti imbattuti finisce a 35-32. Sabato si gioca per le semifinali. Francia-Svezia, come detto, alle 17.30, poi Danimarca-Spagna alle 20.30. Tutto in diretta su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky. Sky, spettacolo garantito. Bene, appuntamento domani su Sky Sport Arena per le due semifinali. Ecco, come dicevamo in fase di presentazione, Matteo, è stato un mondiale, tra virgolette, aperto, aperto a tutto. Chiuso, per modo di dire, almeno per la gran parte delle partite, agli spettatori, però aperto anche a tantissime belle storie, come soltanto un mondiale che vede un po' l'incontro tra paesi diverse e tante culture diverse può offrire. Sicuramente la storia, l'abbiamo presentata la settimana scorsa, di Gotiemu Bumbi, è quella che ha fatto il giro del mondo. È successo un po' di tutto, però, abbiamo selezionato tre storie in particolare. Questa è quella che riguarda l'eliminazione della Slovenia, un'eliminazione che si è portata dietro una marea di polemiche, perché si è parlato di addirittura intossicazione alimentare per 12 giocatori della formazione slovena. Loro giocavano contro l'Egitto il giorno dopo, eppure stanno venendo fuori le prove da parte della Federazione Internazionale, le risposte, insomma, le repliche circa la non veridicità di queste... Si potrebbe dire in linguaggio giudicico le contradduzioni. Esattamente, sì, esattamente. Poi una storia riguarda Lino Cervar, che dopo la sconfitta con l'Argentina... Estrionico come sempre. Come sempre, assolutamente. Dopo la sconfitta con l'Argentina, incredibile, che aveva praticamente quasi condannato la Croazia, si è dimesso e ha detto a fine mondiale, io vi saluto. Peccato che si era dimesso almeno tre o quattro volte prima delle manifestazioni precedenti. E poi durante la notte ci ha ripensato. Durante... sì, perché secondo me ci ha ripensato ancora dopo, perché appena prima della sua partita l'Argentina ha perso, quindi lui è tornato in ballo con la Croazia, poi ha perso rovinosamente contro la Danimarca, una delle favorite, campione in carica, e ha detto in conferenza stampa... Vabbè, forse ho parlato troppo presto, adesso vediamo quello che succederà, perché intanto comunque era rimasto in corsa. E l'ultima storia è quella che riguarda la Repubblica cieca, perché lì la Repubblica cieca il mondiale non l'ha neanche giocato, non ci è arrivata. Per il numero, l'alto numero di giocatori positivi al Covid, Jan Philippe, l'allenatore, è stato, dopo sei anni di ottimi risultati, perché la Repubblica cieca era fortemente cresciuta, è stato esonerato per non aver saputo in qualche modo preservare i giocatori. Sono storie un po' europee, un po' no, ma succede di tutto. Compito al quale solitamente provvede in questo caso la federazione, ma comunque pagano gli allenatori, sempre, è a prescindere. Allora, abbiamo già ricordato gli appuntamenti, il doppio appuntamento di domani con le due gare di semifinali, ed è un fine settimana questo, Matteo, durante il quale si intersegano un po' gli appuntamenti internazionali su Sky Sport Arena, con i mondiali, con gli appuntamenti nazionali sui Leve Sport. Esattamente, c'è un calendario veramente fittissimo tra i recuperi che si giocano in infrasettimanale, le partite del mondiale appunto, e poi sabato tornano in campo congiuntamente, non succedeva da un bel po', maschile e femminile, la serie a Beretta, e quindi si giocano veramente tante partite. Siamo anche fortunati col parincesto perché il mondiale gioca venerdì e domenica e quindi non c'è concomitanza col grosso delle nostre partite. Assolutamente, siamo riusciti sotto questo aspetto a preservare tutto e soprattutto a garantire a tutti gli appassionati di pallamano, o su Sky Sport Arena o su Leve Sport, la visibilità di tutto ciò che la pallamano in questi giorni potrà offrire. Bene, grazie, è tutto per questo appuntamento. Grazie. Matteo Aldamonte lo ritroveremo in telecronaca domani pomeriggio su Sky Sport Arena. Un saluto e un ringraziamento a Sabina Alessio in redazione. Per quanto vi riguarda è tutto, l'appuntamento è a prossima settimana. Di vederci.